8 in prima, no, 7 in prima non partente Sky, ok, e 3 in seconda, quindi sono in 10. 6 l'ora S, bene nell'ultima, il buon vitiello in un buon periodo, è la più gettonata, mezzo meccanico, in movimento. Via la macchina, Spielberg Griff ha le prese con Millionaire Rum a largo di tutti Red All SM, cavalli che affrontano la piegata, si lotta per i birilli e così Millionaire ottiene i birilli ma a largo incombono. L'uno a tabellone e Sailor Aes, il daguerra Pid di vitiello parte bene e si sistema terzo. Un lancio in 14 e mezzo, continua a chiedere strada l'avversario, Red All è gradatamente sopravanza ma non passa ancora. 28 e 7, il 5 a tabellone, passato con molta spesa, da 1 e 12, 500 iniziale, buon per 6 l'ora S che ora aspetta gli eventi e poi si affaccia. 44 e 600, il daguerra Pid prende la via del largo, si completa la piegata e cavalli che si presentano davanti alle tribune. Si va al mezzo miglio iniziale in 59 e 9, parcheggia con l'aiuto di Millionaire Sailor Aes. E così al comando Red All che fa buona andatura, si va al completamento del primo chilometro sul mio in 14 e 9 addirittura. Fuori corsa anche il 10 di Poseidon Group. I cavalli affrontano la penultima curva, andatura sempre brillante, mezzo miglio alla conclusione, una frazione in 15 e 8. Red All, Sailor Aes, Millionaire e cavalli che affrontano il penultimo rettilineo. Si va al paletto dei 600, vediamo un po' questa frazione in 15 e 1. 500 alla meta, Sailor sempre nella scia di Red All sostenuto. I cavalli affrontano la curva finale, si va alla chiusura del miglio in due minuti abbondante. E riprende vantaggio Red All, Sailor deve essere sostenuto. Cavalli ha il completamento della curva finale, Red All con il buon Auriemma al comando nei confronti di Sailor Aes. E mi sa che è scenata una buona fuga, ma Sailor si riprova, ci riprova il vitiello, Red All in vantaggio. Ci riprova Sailor Aes, i cavalli sono in zona traguardo e sul traguardo ancora di dentro probabilmente Red All affiancato completamente dall'avversario. 1.15.7 costringe il giudice alla fotografia tra il numero 7 e intanto c'è la sirena, attenzione, di tutto di più in questa corsa, di tutto di più. Sul palo i due perfettamente apparigliati, ma la sirena della giuria mette subiudice tutta la corsa. Per il terzo dovrebbe essere Odeon, ma ripeto, subiudice, rivedere il filmato. Linea lo studio.